question from the club una domanda mille mondi da scoprire il podcast di business international condotto da matteo castelnuovo buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio di question from the club il nostro consueto spazio virtuale nel quale cerchiamo di analizzare comprendere meglio i nuovi trend le sfide le opportunità che influenzano e guidano il mondo del business in questo inizio d'anno ci siamo voluti concentrare sulla sostenibilità e l'economia circolare anche perché gli ultimi dati del circularity gap report 2024 hanno evidenziato un deciso cambio di passo nell'awareness relativa all'importanza di questi fattori per il comparto industriale globale secondo l'analisi infatti ormai questi temi sono diventati veri e propri mega trend con un aumento del dibattito online e offline e degli articoli dedicati a questi argomenti pari al 300 per cento negli ultimi cinque anni nonostante questo però la circolarità dei materiali utilizzati per la realizzazione di prodotti a livello globale è diminuita del 21 per cento nello stesso periodo preso in considerazione passando da un consumo di materie secondarie del 9.2 per cento nel 2018 al 7.2 per cento di consumo nel 2023 mentre il consumo generale di materie aumenta a dismisura basti pensare che solo negli ultimi cinque anni la popolazione mondiale ha utilizzato oltre 500 giga toni di materie pari al 28 per cento di tutto il consumo prodotto dall'umanità dall'inizio del novecento se però l'aumento di consapevolezza conversazioni e contenuti a favore della sostenibilità non basta a invertire la rotta culturale dell'economia moderna di cosa c'è bisogno oggi concretamente per gestire la situazione nel migliore dei modi abbiamo cercato di rispondere a questa domanda con l'aiuto degli esperti del mix made in italy circolare e sostenibile il primo partenariato esteso supportato dai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza che promuove lo sviluppo di nuove sinergie tra governo università istituti di ricerca e aziende al fine di generare progetti di valore sostenibile utili a tutto il sistema paese un progetto insomma nato un anno fa che oggi cerca di stimolare quel tessuto produttivo che rappresenta l'ossatura dell'economia italiana con l'obiettivo di darle una nuova spinta per tornare a guardare al futuro in questo momento siamo in compagnia di marco teis che è il professore del politecnico di milano e presidente del mix questo nuovo diciamo aggregatore di enti istituzioni imprese e istituti di ricerca per guardare anche a un'economia un made in italy più circolare e sostenibile intanto grazie di essere con noi grazie a voi del dell'invito dell'opportunità dunque e quest'oggi abbiamo visto che insomma il made in italy può essere il vero motore per guardare alla sostenibilità può essere un punto chiave guardando anche dei settori cruciali quali sono e perché è così importante anche per lo sviluppo economico italiano guardare alla sostenibilità intanto dobbiamo partire dai numeri dei dati noi quando parliamo oggi di made in italy pensiamo sempre alla moda all'arredamento al turismo che per carità sono gli elementi fondamentali per i quali l'immagine del paese italia è cresciuta nel nel mondo ma dobbiamo anche vedere qual è il reale valore e impatto sul prodotto interno lordo del paese se noi pensiamo al settore dell'arredamento dell'abbigliamento e dell'automazione e della meccanica quindi le tre a del made in italy e consideriamo anche i settori dell'indotto che servono questi tre settori industriali mi riferisco per esempio alla logistica ai servizi all'informatica ai sistemi finanziari e le banche che supportano questi tre settori noi oggi raggiungiamo circa poco più del 50 per cento del pil del 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 paese e questo è evidentemente il punto di partenza per poter riflettere sul made in italy e sul concetto di futuro del del made in italy il fatto di aver aggiunto i due aggettivi circolare sostenibile quindi mix questo cronimo made italy circolare e sostenibile è proprio perché siamo convinti che il futuro del made in italy non possa che essere circolare e sostenibile e guardiamolo al contrario non si può parlare di sostenibilità del paese italia senza pensare al suo al suo al suo made in italy il connubio di questi due di queste due dimensioni rappresenta e io ne sono convinto e ne siamo convinti i 25 soggetti le 13 università che fanno parte di questo partenariato le 12 imprese che hanno deciso di investire in attività di ricerca siamo convinti che questa sia la chiave di svolta del del futuro in che modo il made in italy può contribuire alla alla sostenibilità intanto il made in italy vuol dire prodotti prodotti vuol dire materiali quindi noi dobbiamo oggi fare ricerca su materiali che siano nella loro formulazione chimica lasciatemi chiamare così a impatto sempre più sempre più ridotto però poi c'è un secondo tema i materiali i prodotti sono fatti nelle fabbriche le fabbriche consumano energia e quindi ecco che noi dobbiamo pensare alle fabbriche del made in italy come delle fabbriche sempre più verdi provate immaginare che il consumatore del prossimo futuro direi già già attuale ma nel prossimo futuro ancora più in maniera più significativa sarà un consumatore che non sarà solo attento a quanto poco consuma il prodotto che sta utilizzando noi oggi siamo abituati a pensare agli elettrodomestici di classe A++ e quant'altro ma al processo produttivo che non avrà consumato energia per produrre questo prodotto e poi c'è la dimensione dell'intera filiera i prodotti le merci viaggiano arrivano dalle diverse regioni dell'Italia le compriamo dal mondo le importiamo e poi le riesportiamo quindi ridisegnare delle filiere logistiche internazionali in un mondo che sta cambiando perché la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta fino a qualche anno fa non c'è più non vediamo in questi in questi giorni come la logistica internazionale mondiale che era una sorta di sistema nervoso perfettamente funzionante è andata in crisi con una nave che un po' di tempo fa si è messa di traverso nel canale di Suez adesso vediamo quello che sta succedendo nel Mar Rosso ma la logistica vuol dire anche disponibilità di materiali che non sono tutti in Italia o nell'Europa e quindi il concetto di sostenibilità è un concetto che deve allargarsi anche a una dimensione internazionale. Ecco lei li ha citati un po' adesso questi trend da seguire come la geopolitica come il bisogno di una filiera internazionale quali possono essere anche gli altri perché proprio per esempio sui materiali c'è un tema di scarsità che anche lei sottolineava e c'è già ora una corsa a trovare materiali come il litio per le batterie per esempio che saranno sempre più necessari per andare a vedere come le imprese potranno rendere sostenibile il proprio business quindi quali sono oggi concretamente gli asset di cui prendersi cura su cui porre l'attenzione per andare verso la sostenibilità e l'Italia è pronta per farlo per guardare a questi asset? Se guardiamo il futuro io credo che dovremo porre la nostra attenzione su tre parole una è scarsità l'altra è complessità e la terza è trasformazione adesso le spiego la scarsità di materiali ma non solo di materiali la scarsità di energia noi veniamo da un periodo in cui l'aumento dei prezzi dell'energia ha caratterizzato per certi versi un periodo abbastanza importante della nostra economia abbiamo visto come questo abbia avuto e continua ad avere impatto per esempio sull'aumento dei prezzi quindi dell'inflazione quindi poi di conseguenza i tassi alti e quindi ci sia stata una modificazione una modifica significativa del nostro modo di percepire l'economia e i mercati e la stabilità quindi la scarsità come elemento che ha rotto delle dinamiche lasciatemi dire in qualche modo che ci hanno fatto vivere per un periodo di tempo importante in un sistema che era in equilibrio la scarsità vuol dire anche scarsità di persone e di competenze oggi quando noi parliamo con le imprese ci dicono le competenze ci sono nel senso che la qualità della formazione italiana dei ricercatori è più che adeguata solo che manca la quantità non abbiamo abbastanza persone che hanno queste competenze e quindi la scarsità non è ripeto solo sulle materie prime sull'energia ma è anche sulle persone la vera materia prima che varrà a mancare nel prossimo futuro al Made in Italy circolare e sostenibile sono proprio le persone secondo tema è la complessità la complessità vuol dire complessità geopolitica quest'anno noi avremo un numero mai visto di paesi che andranno a votare alle elezioni ci sono state alcune elezioni recentemente come Taiwan ma ci aspettano le elezioni in Europa ma in tanti altri paesi del mondo c'è una complessità sulle filiere logistiche lo abbiamo detto prima c'è una complessità intrinseca nelle tecnologie digitali oggi si parla di intelligenza artificiale l'ultima che in qualche modo è venuta un po' di moda ma c'è l'internet delle cose c'è il cloud ci sono i big data c'è una complessità di tecnologie digitali un'articolazione di tecnologie digitali che rende molto difficile per il sistema industriale italiano che è fatto da piccole e medie imprese a sapersi orientare quindi la complessità sarà uno dei secondi elementi di attenzione la terza è la trasformazione oggi parliamo di trasformazione digitale parliamo di trasformazione ecologica quindi di questi due trend di innovazione finalmente abbiamo capito che sono transizioni gemelle quindi le chiamiamo proprio così non possiamo pensare a fare sostenibilità senza la trasformazione digitale anzi lasciatemi dire il digitale è il più grande abilitatore di trasformazione ecologica non si può pensare di essere sostenibili senza investire in tecnologie digitali ma l'uso finalmente della parola transizione e non più quello di rivoluzioni industriali io credo che sia molto interessante perché nella semantica del termine transizione c'è in qualche modo il senso del movimento, del rinnovamento, dell'assenza di status quo ma questo è esattamente quello che andrà a caratterizzare i nostri mercati e che dovrebbe diventare in qualche modo il modo di pensare delle nostre imprese cioè il fatto che saremo in perenne movimento, adeguamento, rinnovamento se oggi infatti un investimento in una tecnologia non devo pensare di essere a posto per i prossimi 5 anni, 2 anni il giorno dopo devo ripartire da capo, continuare a fare innovazione quindi essere in un equilibrio dinamico credo che sia il modo giusto per affrontare il futuro ma per cercare questo equilibrio dinamico abbiamo visto anche proprio qui alla presentazione alla prima presentazione del mix al pubblico il PNRR per esempio è uno strumento eccezionale da un punto di vista economico ci sono dal vostro punto di vista guardando al futuro altre azioni che a livello istituzionale, governativo o anche di partnership tra enti, di partenariato possono essere fatte o devono essere fatte il PNRR vuol dire una iniezione importante di finanziamenti che sappiamo sono investimento quindi questo è un aspetto l'altra dimensione io credo responsabilità che il governo e le istituzioni hanno ma anche i media e quindi per esempio sono contentissimo di essere qui con voi oggi a parlarne è di fare cultura sulla ricerca, sull'innovazione, sul trasferimento tecnologico fare un piano industriale non vuol dire solo una serie di norme, di decreti, di leggi di bilancio fare un piano industriale vuol dire comunicare la direzione vuol dire fare una trasformazione culturale del paese dando la direzione e comunicando agli imprenditori quale sia la direzione noi l'abbiamo fatto in Italia qualche anno fa col piano industria 4.0 è stata veramente una grande operazione di trasformazione culturale del paese abbiamo comunicato, insegnato, spiegato quello che stava succedendo nel mondo con l'arrivo di questa quantità di tecnologie digitali ecco noi dobbiamo fare esattamente oggi la stessa cosa dove il contenuto è il made in Italy dove il contenuto è il made in Italy nel senso ampio del termine come lo abbiamo definito prima dove il made in Italy è circolare e sostenibile perché i consumatori del domani saranno consumatori nativi, sostenibili saranno consumatori che saranno molto esigenti da un punto di vista della qualità del prodotto e della sua circolarità e quindi io credo che una parte significativa sia non solo investire ma anche comunicare, comunicare, comunicare che potrebbe essere una competenza per la sostenibilità del futuro ad ampio spettro quindi non solo da un punto di vista delle imprese ma anche proprio degli istituti formativi, universitari e di ricerca ma assolutamente una delle caratteristiche che direi unica oggi nel panorama della ricerca e dell'innovazione in Italia che Mix ha è quella di aver rimesso insieme per la prima volta tre settori che normalmente non si parlano la meccanica e l'automazione non ha mai parlato con l'arredamento, con l'abbigliamento e viceversa perché c'era una sorta di autoreferenzialità la crossfertilizzazione che noi siamo stati capaci di fare in Mix facendo parlare tre mondi diversi, lontani e condividendo le ricerche, le soluzioni i risultati, esattamente fare cultura del paese è inutile reinventarsi la ruota quando magari qualcuno a fianco in un settore vicino al mio ha già trovato la soluzione grazie degli spunti di essere stato con noi grazie a voi per l'invito in questo momento siamo in compagnia di Bianca Maria Colosimo che è presidente del comitato tecnico scientifico del Mix appunto Made in Italy Circolare e Sostenibile grazie di essere con noi buongiorno a tutti dunque quest'oggi abbiamo capito che un partenariato un'entità possiamo dire come quella del Mix è estremamente importante per guardare alla sostenibilità e quindi al futuro del business ma anche possiamo dire dello sviluppo economico del nostro paese cosa significa questo però in termini concreti in termini anche di numeri, di dati come è stato presentato questa mattina? Allora Mix è composto da 25 attori la metà sono università denti di ricerca che sono il volano per attrarre i giovani e per formarli l'altra metà sono grandi imprese che hanno l'obiettivo poi di raccogliere tutte le nuove soluzioni che noi proveremo a creare per fare la circolarità e la sostenibilità sostanzialmente renderla un asset competitivo per aumentare quindi la competitività dei loro prodotti e dei loro processi sono più di 120 milioni, 125 milioni di finanziamento per dare un'idea sono 15-20 progetti europei quindi un finanziamento molto molto importante il 40% è destinato al meridione perché si ritiene che lì ci siano competenze e potenzialità molto importanti per raccogliere queste sfide e riguarda tre ambiti fondamentali che sono le 3 A quindi l'automazione, meccaniche e beni strumentali l'arredamento e la moda e tessile abbiamo già tantissimi giovani ricercatori che stanno già lavorando come attori protagonisti nel trovare nuove soluzioni nel digitale e nel sostenibile per il Made in Italy al momento prevediamo a fine progetto di arrivare a 300 nuovi giovani ricercatori che verranno in qualche modo formati a portare queste nuove soluzioni all'interno del paese con un fattore moltiplicativo che ci aspettiamo da 25 partner iniziali arrivi a raddoppiare pensando sia ai bandi aperti che sono queste nuove opportunità per prendere nuovi finanziamenti su questi temi sia attraverso la catena del valore quindi tutte le filiere produttive che vanno verso i fornitori e verso i clienti Ecco abbiamo notato questa mattina come il progetto aiuti anche a spiegare a far comprendere quanto la ricerca universitaria, scientifica, tecnica sia fondamentale per lo sviluppo di questo concetto di sostenibilità a 360 gradi che quindi non riguarda solo quella ambientale ma anche quella sociale e territoriale per le imprese, per il futuro per la crescita delle imprese voi avete suddiviso diciamo a raggera gli obiettivi del vostro progetto ce ne vuole parlare un po' più precisamente e soprattutto qual è l'equilibrio come per esempio dedicato al gender gap o al fattore generazionale o geografico che in termini di criteri state sviluppando e seguendo Allora mi piace moltissimo il tema che la tecnologia al momento è al centro della possibilità di creare valore lo vediamo nel modello americano che grazie all'intelligenza artificiale a nuovi modelli di business ha completamente rivoluzionato il modo con cui creiamo valore noi abbiamo raccolto questo tema e riteniamo che andando mano in mano quindi università e imprese è l'unico modo per sviluppare nuova tecnologia andare rapidamente dai laboratori fino alle imprese con nuove soluzioni tecnologiche e con nuovi giovani ricercatori che dalle università prendono gli spunti rispetto alle sfide e le mettono poi a terra nelle imprese ma anche piccole e medie imprese per far questo abbiamo deciso di affrontare questa idea della ruota che ha al centro un hub, un mozzo e poi tutte le raggere che vanno verso la periferia questi raggi sono i diversi temi che Mix affronta da un lato i nuovi strumenti di progettazione prodotto quindi realtà aumentata realtà virtuale del digitale che ci aiuta a progettare nuovi prodotti che devono essere circolari quindi l'eco design significa pensare a prodotti che vanno dalla culla alla culla cioè non hanno un fine vita ma vengono in qualche modo recuperati e riusati per avere attenzione rispetto all'ambiente i materiali che devono essere già nella fase di progettazione e produzione sostenibili, verdi recuperare gli scarti sia per i materiali preziosi sia per le plastiche che diventano biocompatibili e devono prendere spunto dalla natura quindi devono essere anche materiali in qualche modo intelligenti la fabbrica che diventa nello SPOC 5-6 diventa completamente circolare e sostenibile e abbiamo preso come esempio di tentativo di riproduzione la fabbrica nello spazio una fabbrica che non usa risorse dall'esterno ma che ha tutto al suo interno per andare in missione verso Marte e delle tecnologie che possono essere in qualche modo sfidanti come la stampa 3D che abbiamo visto durante il Covid ha permesso di risolvere molti problemi proprio perché si presta a una rapida soluzione a delle risposte resilienti fino ad arrivare alla catena del valore che quindi vede nella sostenibilità e nell'ambiente nuovi stimoli per prendere nuovi mercati e quindi diventare più competitivi e poi un affondo sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale l'ultimo raggio di questa ruota perché sono tecnologie alla fine che permettono di abilitare sostenibilità e circolarità in modo differente dati rispetto all'attenzione alla componente femminile e al meridione 40% di finanziamento e soprattutto nei bandi a cascata sarà ancora più importante verso il meridione quindi quota di premialità per tutti gli attori meridionali che vogliono essere coinvolti nella progettualità di Mix e speriamo di riuscire ad arrivare alla metà della componente femminile rappresentata da tutti i nuovi giovani ricercatori che si accoderanno a noi e in qualche modo faranno questo viaggio insieme a noi abbiamo già mantenuto queste cifre nel personale dell'università che è stato coinvolto siamo già stati in grado di rappresentare metà per cento della componente femminile quindi un primo grande obiettivo l'abbiamo raggiunto ecco e questo è già un bel segno perché molto spesso c'è questa problematica di mismatch tra le competenze e il gender gap e forse anche l'aspetto generazionale perché voi andate a cercare anche giovani ricercatori c'è una grande attenzione verso le nuove generazioni che forse si diceva anche nella presentazione di questa mattina hanno una consapevolezza della sostenibilità maggiore rispetto alle generazioni che le hanno preceduti potrebbe essere questa la chiave di volta per guardare al futuro ce ne sono altre ci sono magari delle competenze anche digitali o tecnologiche che possono avere più rilievo rispetto ad altre allora mi sembra che i giovani siano prontissimi a raccogliere queste sfide perché sono sfide che un po' partono da loro nel senso ci stimolano un'attenzione all'ambiente mi piace moltissimo che il nome partenariato esteso nasca da un'azione dell'Europa che si chiama Next Generation EU quindi nuova generazione per l'Europa sono assolutamente molto fertili sono nativamente come diceva oggi Marco Teich digitali e sostenibili quindi sono molto attenti a queste tematiche per guardare al futuro del loro paese e raccolgono benissimo la sfida perché sono quelli più entusiasti sicuramente anche con un occhio diverso uno sguardo diverso rispetto al futuro rispetto a quello che abbiamo avuto noi nelle nostre generazioni quindi io penso che la strategia sia essenzialmente formare queste nuove risorse umane e queste nuove menti in grado di immaginare un futuro diverso immaginando un futuro prima parlato di Space Economy potrà essere quello diciamo l'ambiente da osservare o su cui puntare per guardare alla sostenibilità circolare come diceva prima allora la Space Economy è un favoloso attrattore di idee e di riflessioni su quello che può essere una fabbrica del futuro delle tecnologie del futuro i materiali del futuro e serve tantissimo come attrattore e come stimolo sicuramente gran parte del futuro di questi giovani ragazzi andrà anche occuparsi proprio in maniera più puntuale di Space Economy mi piace moltissimo che le sfide che nascono nello spazio in realtà hanno un'importante ricaduta a terra quindi ci permettono di curare meglio il nostro ambiente non solo lo spazio grazie al fatto che sono talmente ambiziose che in qualche modo ci forzano a fare in modo diverso la progettazione la scelta dei materiali e anche la realizzazione dei prodotti i materiali probabilmente diventeranno la vera sfida terrena invece diciamo del futuro prima durante la presentazione si parlava anche della necessità nei prossimi anni di guardare al mondo delle batterie quindi delle rinnovabili dell'energia e di materiali come il litio come l'Europa che di questi materiali in questo momento è un po' sguarnita potremmo dire dovrà muoversi dal vostro punto di vista per guardare alla sostenibilità sì allora due riflessioni i materiali sono cruciali ma mi piace moltissimo che i mix li si affronti in un'ottica in qualche modo sistemica nel senso che si possono anche sviluppare o recuperare materiali ma se io non ho progettato in maniera corretta i prodotti e non li so poi fabbricare non so usare i materiali non riesco a realizzare i prodotti in qualche modo anche le scelte più ambiziose relativamente ai materiali rimangono nei laboratori e non diventano invece nuovo business per l'impresa quindi la logica di mix questo fatto di guardare a tutti gli aspetti insieme secondo me è molto potente rispetto a quello che l'Europa sta facendo secondo me deve utilizzare le proprie debolezze rispetto ad alcuni elementi come la scarsità di materiale come volano perché l'Europa è stata sempre la prima ad avere attenzione rispetto all'ambiente alla sostenibilità e alla circolarità e molto avanti nel recupero e nella capacità non di realizzare prodotti ex novo ma nel riuso riciclo ha delle percentuali altissime di riuso di differenziata di valorizzazione dei rifiuti e secondo me su questo asset strategico può sicuramente essere prima della classe lo speriamo ovviamente grazie di essere stata con noi e per i suoi spunti arrivederci grazie in questo momento siamo in compagnia di Daria Battini che è professoressa dell'Università di Padova e leader dello spocotto del Made in Italy circolare e sostenibile grazie di essere con noi buongiorno a tutti dunque quest'oggi vorremmo cercare di comprendere bene perché la digitalizzazione il fattore digitale e tecnologico sia così importante per guardare al futuro e allo sviluppo di una sostenibilità o di un concetto di sostenibilità anche nella crescita e nello sviluppo dell'impresa il nostro spoc si avventura nel mondo dell'intelligenza artificiale in particolare e del machine learning vogliamo creare dei nuovi modelli dei nuovi approcci metodologici orientati all'analisi dei dati al fine proprio di comprendere meglio quanto l'impianto produce consuma e poter andare verso una riduzione proprio del consumo energetico dei nostri impianti manifatturieri stiamo cercando con i nostri progetti i nostri ricercatori di elaborare delle nuove tecniche di analisi dei dati e le andiamo a testare su dati reali che ci forniscono le imprese coinvolte all'interno del nostro SPOC che sono imprese molto motivate nell'andare appunto a migliorare i loro consumi energetici e ci stanno fornendo dei casi ideali sui quali poter testare le nostre metodologie ecco sotto questo profilo quali sono i reali benefici che l'intelligenza artificiale può produrre per guardare alla sostenibilità anche della catena produttiva quindi delle operations possiamo dire o comunque di quella che è la linea produttiva di un'azienda possiamo rilevare dati in tempo reale riuscire a creare dei digital twin dei modelli dei gemelli digitali dell'impianto conoscere quanto l'impianto consuma in ogni istante del suo funzionamento ed elaborando poi questi dati con opportuni criteri opportuni modelli di machine learning andare a comprendere quali sono i fattori che più influenzano il consumo energetico ma anche l'efficienza dell'impianto stesso quindi andando a definire i fattori chiave quelli più critici si può poi andare subito a porre l'attenzione su questi migliorando l'impianto e agendo subito sui fattori critici ecco nella ricerca che voi state sviluppando qual è oggi il fattore di maggiore criticità possiamo dire all'interno delle imprese italiane o comunque della modalità in cui le imprese producono oggi nel nostro paese beh oltre a da un punto di vista ambientale di sostenibilità ambientale sicuramente il consumo di alcuni impianti energivori molto diciamo che richiedono molta energia non soltanto elettrica e poi senz'altro la gestione del rifiuto del rifiuto di produzione dello scarto e di come questo scarto può essere reimmesso all'interno del sistema produttivo come materia prima al fine proprio di richiudere la catena logistica e il processo produttivo in ottica circolare poi da un punto invece di vista della sostenibilità sociale abbiamo bisogno di utilizzare le tecnologie digitali per aiutare l'uomo supportarlo andandolo proprio a migliorare nella sua attività lavorativa ma senza andarlo a sostituire quindi noi stiamo proprio lavorando con l'obiettivo di testare approcci metodologici volti a trovare una sinergia tra il lavoratore e la tecnologia digitale ecco da questo punto di vista per mantenere diciamo the human in the loop quindi l'uomo all'interno di questa circolarità quali sono le competenze che poi a quel punto sono importanti magari e devono essere richieste ai professionisti di domani ma anche probabilmente nell'immediato futuro quindi potremmo dire già di oggi per interagire correttamente con il mondo digitale le nuove tecnologie per guardare la sostenibilità allora da un punto di vista della progettazione sicuramente serve avere uno sguardo alla ergonomia dell'attività e soprattutto della stazione di lavoro una forte una forte predisposizione per cercare di migliorare il benessere del lavoratore e aiutarlo nel suo livello di attenzione quindi cercare di utilizzare tecnologie che possano aiutare l'operatore a non perdere attenzione durante il turno di lavoro ricordandogli le mansioni che deve fare o semplicemente dandogli un riferimento durante il suo lavoro questo ad esempio può essere eseguito da opportuni strumenti di realtà aumentata o realtà virtuale che stiamo cercando di testare da un punto invece di vista del lavoratore stesso senz'altro servono approcci abbastanza ci servono persone aperte all'idea appunto di non fare più tutto da soli ma di essere aiutati dalla tecnologia che non ti sostituisce non ti elimina dal mondo del lavoro ma semplicemente ti supporta ti aiuta ti guida perché questa è l'intenzione proprio trovare un aspetto sinergico tra lavoratore e attrezzatura digitale senza dare il sopravvento alla tecnologia ma nemmeno al lavoratore trovare proprio una collaborazione proficua tra i due attori ecco potrebbe essere questa un po' la sfida probabilmente anche del vostro Spock per il futuro cioè nel senso la collaborazione uomo-macchina è un nuovo concetto di tecnologia sinergico perché oggi probabilmente in Italia ancora non è vista in questo modo perciò anche all'UEF quindi al World Economic Forum si è parlato molto di intelligenza artificiale e di come oggi l'intelligenza artificiale non sia qualcosa che può ovviamente sostituire l'uomo ma che deve essere pensata per agevolarlo certo l'attore principale il protagonista del processo produttivo rimane l'uomo la tecnologia va ad integrare a migliorare a supportare le sue capacità e quello che noi stiamo cercando di fare è anche raccogliere dati dall'operatore umano capirlo comprenderlo meglio mentre utilizza l'attrezzatura comprendere meglio come si sente com'è il suo stato di benessere psicofisico in modo proprio da ottimizzare tutta la progettazione della postazione di lavoro e del sistema produttivo proprio a suo favore quindi migliorandone la sua motivazione il suo benessere sia fisico che mentale ecco guardando a questo quindi gli obiettivi del vostro Spock anche da un punto di vista di progettualità e di risultati finali quali vogliono essere dove volete arrivare avete già coinvolto alcune aziende ma quali sono diciamo i risultati che vorrete raggiungere durante il primo anno di ricerca abbiamo sviluppato dei modelli di progettazione che abbiamo pian piano validato insieme alle università coinvolte nello Spock quindi due politecnici Torino-Milano l'Università di Brescia e la Sapienza l'obiettivo è arrivare alla fine del 2024 con il processo diciamo di validazione completato di questi metodi di progettazione che sono metodi teorici e poi però terminare alla fine del 2025 con i test effettivi fatti sul campo grazie alle aziende coinvolte nello Spock che appunto sono Camozzi Italtel Leonardo ed SCM grazie per i suoi spunti e per essere stata con noi grazie a voi in questo momento siamo in compagnia di Fabrizio Cobis che è dirigente del Ministero dell'Università e Ricerca il MIUR grazie di essere con noi grazie a voi dunque quest'oggi all'interno del Made in Italy circolare e sostenibile abbiamo capito qual è il valore concreto e l'importanza che l'Università dialoghi con l'impresa ma quali sono gli asset strategici da considerare per attivare questo dialogo e i benefici che ne possono derivare anche guardando alla sostenibilità che come abbiamo visto non è solo un trend una tematica da seguire ma è proprio un motore di sviluppo e crescita economica Sì intanto cominciamo col dire che il valore del rapporto tra Università e impresa è un valore ormai conosciuto e riconosciuto da Urbano ormai da molto tempo a un certo punto si è compreso che il nostro tessuto industriale fatto per la stragrande maggioranza di piccole e piccolissime imprese per competere in mercati sempre più estesi sempre più globali sempre più competitivi aveva bisogno di puntare su fattori determinanti come la ricerca e l'innovazione per far questo ha bisogno ha bisogno di un rapporto molto stretto col mondo dell'università col mondo che produce la conoscenza e che poi le imprese debbano essere in grado di trasformare rapidamente in un valore economico da portare sul mercato questo era vero anni fa è sempre più è sempre più vero perché la competitività di un territorio di un sistema di un paese si gioca fondamentalmente sulla capacità di conquistare mercati in modo con prodotti qualitativamente competitivi e farlo prima dei concorrenti quindi qualità e velocità nella realizzazione nella capacità di trasformare ripeto conoscenza in un valore economico diventano i fattori competitivi quindi politiche e azioni a livello istituzionale governativo che favoriscano questo incontro e credo le condizioni strutturali perché questo incontro avvenga in modo sempre più naturale sempre più positivo è per esempio uno dei compiti che abbiamo noi al ministero con la gestione dei fondi del PNRR che proprio hanno la caratteristica la denominazione dalla ricerca all'impresa quindi la necessità la capacità di chiudere il divario tra il mondo della conoscenza e il mondo della produzione con una contaminazione reciproca e farlo e fare in modo che questa contaminazione avvenga in maniera molto veloce molto molto continua perché il fattore tempo è un fattore determinante ecco diciamo la messa a terra dei partenariati un po' come appunto abbiamo visto anche oggi quali sono però dal vostro punto di vista le sfide e le opportunità da cogliere perché il PNRR e i suoi fondi diciamo sicuramente sono una grande possibilità economica ma anche di movimentazione di creazione di questo meccanismo di velocità e di qualità ce ne sono altre quali sono le priorità magari da gestire per arrivare a un buon risultato sì concordo le risorse del PNRR rappresentano una straordinaria opportunità che ha in questo paese di crescere da tutti i punti di vista sul piano della capacità di investire in ricerca e innovazione è veramente una chiave di volta fondamentale il fattore che deve essere sempre presente è che una dimensione così importante di risorse che debbono essere messe a terra in maniera positiva completa nei tempi così ristretti che sono quelli che caratterizzano il PNRR impongono a tutti un cambiamento di mentalità un cambiamento culturale che passa dal nuovo organizzazione di lavoro da nuove procedure da nuovo modo di vedere i rapporti tra i soggetti dal valore che si dà al raggiungimento dei risultati piuttosto che rispetto di o solo rispetto di adempimenti alla capacità di costruire in maniera stabile delle grandi aggregazioni come possono essere i partenariati di cui oggi abbiamo visto un esempio in cui l'interesse superiore l'interesse collettivo l'interesse generale è più importante delle posizioni individuali come faccio sempre l'esempio di un'orchestra sinfonica in cui ci sono tantissimi musicisti ognuno col suo spartito ognuno col suo strumento ma che hanno senso e funzionano se combinati e coordinati insieme rispetto a tutti gli altri questa è la sfida perché veniamo chiamati a rinnovare il nostro modo di ragionare si può dire che è un modo di fare di innovare il modo di fare innovazione che è l'obiettivo del PNRR in questo senso quindi quali sono le prossime azioni i prossimi passi da mettere in campo per portare le aziende ad avere un nuovo modo di innovare un modo nuovo di ragionare e di fare sostenibilità i prossimi passi sono i passi che ci aspettano tutti i giorni da oggi pomeriggio domani mattino domani pomeriggio quello di fare in modo che questi progetti camminino correttamente producano correttamente risultati stiano sempre attenti alla qualità dei risultati perché il dopo PNRR perché il PNRR finisce prima o poi si costruisce oggi e se noi saremo capaci di costruire oggi le condizioni del futuro avremo fatto quello che serve anche alle nostre imprese che avranno imparato e potranno godere di condizioni strutturali di contesto che le favoriranno nei loro investimenti in futuro in futuro questo è l'impegno che abbiamo tutti cioè quello di guardare sempre lontano avere sempre presente la visione ma con la cura del dettaglio quotidiano la costruzione del dettaglio quotidiano è quello è la presupposta fondamentale per mantenere viva una visione che non sia un'illusione ma che diventi poi rapidamente qualcosa di concreto e tangibile grazie degli spunti per essere stato con noi grazie a voi buon lavoro in questo momento siamo in compagnia di Domenico Ricchiuti che è Chief Operation Officer di Natuzzi grazie di essere con noi grazie a voi dunque Domenico oggi qui al Made in Italy Circolare e Sostenibile il primo evento dedicato insieme a questa entità che parla di sostenibilità di economia circolare e di impresa collegato anche al mondo della ricerca e dell'università abbiamo visto come rendere sostenibile il business non sia proprio una cosa semplicissima e mettere a sistema quindi creare un partenariato di larga intesa e di grande valore sia uno dei passi essenziali ma cosa significa oggi per un'impresa come la vostra che fa del Made in Italy un'eccellenza un simbolo d'eccellenza e che fa anche della sua tradizione della sua storia un valore aggiunto puntare verso la sostenibilità e l'innovazione oggi come oggi per il gruppo Natuzzi sostenibilità vuol dire puntare sul rispetto delle persone sul rispetto del pianeta e quindi sul concetto della triple bot online avere la consapevolezza che nel momento in cui si fanno delle scelte non si fanno delle scelte orientate solamente al business value ma allo shared value quindi ad un valore condiviso che permetta di arricchire non solo l'impresa ma anche gli stakeholders a cui l'impresa si rivolge e in questo il gruppo Natuzzi già nel momento in cui ha fondato decenni fa il codice etico ha voluto creare un ponte tra il passato e il futuro e quello che sarà attraverso un valore fondante che è quello dell'integrità integrità intesa come rispetto degli dipendenti rispetto delle comunità rispetto dell'ambiente e rispetto della comunità civile ovviamente con l'obiettivo di soddisfare comunque tutti gli stakeholders compresi gli shareholders sotto questo profilo abbiamo visto anche quanto l'innovazione la tecnologia la digitalizzazione aiuti si trasformi ossia più che altro un motore per puntare al successo in questa transizione ecologica in questa sostenibilità diciamo che è sempre più importante per la crescita economica di un'impresa come si declina questo nel vostro modo di produrre quindi anche nel vostro modello di business se vogliamo nella vostra capacità di creare valore oggi come oggi veniamo da una situazione in cui abbiamo assistito ad una disruption dal punto di vista dei fenomeni macroeconomici internazionali ricordiamo tutti la pandemia ricordiamo l'iperinflazione dovuta a fenomeni macroeconomici e conflitti internazionali e quindi oggi ci troviamo di fronte all'imponderabile l'azienda come risponde di fronte all'imponderabile risponde attraverso appunto dei processi che siano sostenibili sostenibilità vuol dire creare un'efficienza operativa un'iper-efficienza operativa nei processi di trasporto nei processi di logistica nei processi di trasformazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia la nostra tecnologia non è orientata a sostituire l'uomo ma è orientata ad aiutare l'uomo al lavoro e quindi anche qui c'è ancora quel senso di etica sociale che l'impresa mette nelle sue operatività tant'è vero che noi nei nuovi nei nuovi progetti anche di fabbrica che l'abbiamo chiamata appunto fabbrica 4.0 abbiamo introdotto delle tecnologie che aiutano l'uomo a lavorare in maniera ergonomica e quindi a rispettare i diritti dei nostri lavoratori in termini di salute e sicurezza sul lavoro dal vostro punto di vista quindi quali sono i prossimi passi per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità di circolarità di digitalizzazione di innovazione che vi siete posti e comunque mantenere quel valore del Made in Italy della tradizione che come abbiamo visto qui anche oggi è un simbolo dell'Italia da non perdere ma da valorizzare da continuare a valorizzare gli obiettivi che ci siamo posti per il futuro sono orientati a due elementi da un lato quello comunque di efficientare tutta la supply chain infatti noi partecipiamo all'interno del mix in due spoke che sono orientati a digitalizzare la supply chain a rendere resiliente e anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale questo ci permetterà di valutare passo dopo passo l'ottimizzazione della nostra supply chain e quindi anche la riduzione del carbon footprint legato all'ottimizzazione stessa dall'altro lato orientare comunque le nostre proposte di prodotto e quindi non solo ottimizzazione di processo ma anche ottimizzazione di prodotto verso prodotti che siano sostenibili orientati ad un consumatore sempre più attento alla sostenibilità sempre più attento alla qualità del prodotto intesa anche come utilizzo di materiali di origine organica per esempio i nostri prodotti sono rispettosi di quelli che sono i criteri dal punto di vista ambientale dalla fase della costruzione fino alla fase dell'imballaggio e del trasporto quindi da questo punto di vista i nostri prodotti saranno sempre più orientati verso questo tipo di consumatore c'è un progetto in modo particolare a cui vorreste dare vita diciamo che può essere un obiettivo proprio per il futuro e che non siete magari ancora riusciti a fare partire o che sta per nascere nella nostra azienda nel gruppo Natuzzi tutte le idee tutti i sogni quasi sempre vengono realizzati il nostro fondatore Pasquale Natuzzi ha creato insieme a team delle operation insieme al team della ricerca e sviluppo insieme al team del merchandising un nuovo prodotto che si chiama WellBe che cerca di coniugare gli aspetti della sostenibilità e quindi il concetto di armonia e del vivere bene al concetto della sostenibilità motivo per cui questo progetto oggi è stato lanciato in tutti i nostri centri di distribuzione quindi nei nostri negozi di marca è un progetto Natuzzi Italia e come tale cercherà di raggiungere appunto questo tipo di consumatore aprendo la strada ad un nuovo mercato inesplorato grazie per i tuoi spunti e per essere stato con noi grazie a voi avete ascoltato question from the club il podcast di business international condotto da Matteo Castelnuovo visitate www.businessinternational.it per rimanere sempre aggiornati sulle novità e seguite le conversazioni attraverso i nostri canali social con l'hashtag question from the club per scoprire quali saranno gli ospiti dei prossimi appuntamenti grazie a tutti grazie a tutti